Dalle intercettazioni è emerso che voleva disfarsi di alcuni beni, per questo aveva chiesto ai suoi familiari di venderli. Su richiesta dalle parti civili, dunque, il GIP del Tribunale di Bari, Francesco Agnino, ha disposto il sequestro di tre appartamenti nel quartiere di Apigio di Bari, un locale ad uso commerciale e nove conti correnti, tutti di proprietà di Roberto Perilli, l'ex agente immobiliare imputato per l'omicidio del collega Giuseppe Sciannimanico, ucciso il 26 ottobre 2015 a Bari. Il sequestro conservativo di beni immobili ed immobili del valore di 500 mila euro è stato eseguito su disposizione della magistratura barese e nel provvedimento il giudice richiama alcune conversazioni intercettate nei mesi di novembre e dicembre 2015, quando Perilli era già in carcere, nelle quali l'imputato ha reiteratamente manifestato la volontà di compiere atti dispositivi diretti al depreciamento del patrimonio a fine di sottrarlo da eventuali aggressioni proprio delle costituite parti civili.